E a Torino devono decidere che cosa fare in questa situazione pazzesca che si è creata. Garibaldi per due mesi governa l'ex regno di Napoli con pieni poteri, si dimentica una cosa sola, non si assegna uno stipendio, non prende un soldo durante quei due mesi in cui è dittatore del regno di Napoli e deve decidere cosa fare. E qui per testimonianza concorda dei contemporanei viene fuori invece il Garibaldi come dire politico non tanto bravo quando si tratta di amministrare concretamente perché prende una serie di decisioni anche contraddittorie, fa alcune cose che spaventano i conservatori, i liberali che pure l'hanno acclamato per dire crea un sussidio di disoccupazione per i disoccupati. Questa è una cosa che non piace per niente, è l'anticamera del comunismo tanto per cambiare. Si circonda anche di gente poco chiara, è ben noto che il ministro degli interni di Francesco II, Don Liborio Romano, uomo noto per essere ammanicatissimo con la camorra, appena arriva a Garibaldi gli va incontro, gli offre i suoi servigi e Garibaldi tranquillamente lo prende a suo servizio. Insomma la gestione di Garibaldi della dittatura nelle due Sicilie provoca grande preoccupazione da molte parti e specialmente a Torino dove si teme che la situazione precipiti perché la paura è sempre che a questo punto l'Italia meridionale diventi un focolaio di sovversione, di rivoluzione. Che arrivino lì i mazziniani, che arrivino lì gli anarchici, i comunisti e Garibaldi gran bravuomo però non è capace di tenerli a bada, non capisce niente. Per cui l'umore diventa molto cupo ed è molto indicativo vedere come in questo preciso momento a Torino nei confronti di Garibaldi si fanno dei discorsi che poi negli anni seguenti nessuno storico ufficiale tirerà fuori naturalmente. Cavour scrive che Garibaldi si era circondato di mazziniani e di repubblicani della peggior razza e scrive Cavour se Garibaldi persevera per quel cammino funesto in cui si è messo entro una quindicina di giorni andremo a ristabilire l'ordine a Napoli anche a costo di gettare tutti i garibaldini a mare. E' un discorso ricorrente questo del buttarli a mare perché poi qualche giorno dopo, visto che le cose non migliorano, Vittorio Emanuele decide di entrare nel regno di Napoli con l'esercito per prendere in mano la situazione. E Cavour riferisce così la decisione di mandare l'esercito col re alla testa a entrare nel regno di Napoli. Vittorio marcerà su Napoli per ridurre alla ragione Garibaldi e per gettare in mare quel nido di repubblicani rossi e di socialisti demagoghi che si è formato attorno a lui. Quanto a Vittorio non è da meno, viene sentito parlare di sterminare sino all'ultimo, la canaglia e canaglia fino alla fine e così via. Dopodiché, come sapete, non c'è stato nessuno sterminio perché Garibaldi, il quale di tutte queste cose non si immaginava neanche lontanamente e che aveva sempre detto io sono qua a far l'Italia per il re, appena viene a sapere che il re è entrato con l'esercito del regno di Napoli, gli va incontro tutto festante e gli regala l'Italia meridionale. Dopodiché lo porta a Napoli e lo presenta ai suoi nuovi sudditi, i quali applaudono Garibaldi e non applaudono Vittorio, cosa che non rende tanto contento il re. Dopodiché però, Garibaldi è un ingenuo, sì, ma mica poi tanto. Lui finito tutto questo se ne torna a Caprera a fare il contadino, ma intanto rimane in contatto con gli amici, segue la politica e il retroscena viene fuori. Viene fuori che a Torino, mentre lui era lì che aveva appena preso Napoli, si parlava di andare a sterminarli tutti e ributtarli in mare. E Garibaldi viene a sapere questo e ci rimane malissimo e a questo punto succede una scena memorabile, perché Garibaldi nel frattempo è stato eletto in Parlamento, è stato eletto in parecchie posti, ma lui ha scelto Napoli, fra i molti posti in cui l'avevano votato. E Garibaldi si presenta in Parlamento, non ci va spesso, non ci va volentieri, ci va vestito naturalmente col poncio, per cui oggi non lo farebbero entrare naturalmente a Montecitorio. E nemmeno allora volevano tanto farlo entrare, però tenerlo fuori sembrava una cosa, quindi lo fanno entrare. E Garibaldi, siamo nel 61, nel primo Parlamento dell'Italia Unita, riunito a Torino, Garibaldi prende la parola, fra grandi aspettative, le tribune piene di Garibaldini, sostenitori e così via. E Garibaldi comincia il suo discorso dicendo, ho sentito dire che mentre noi eravamo là, che liberavamo l'Italia meridionale per regalarla al re, qui a Torino si parlava di mandare le truppe per combattere la rivoluzione che io Garibaldi avrei personificato. E poi si rivolge a Cavour e gli dice, lei signor Conte preparava una guerra fratricida. Siamo in Parlamento, un mese e mezzo prima della morte di Cavour, morte improvvisa, come sapete, e che forse, come dire, un pochettino è stata anche facilitata dallo sciocco di questa giornata memorabile in Parlamento. Garibaldi accusa Cavour in Parlamento di aver preparato la guerra fratricida. Cavour salta su, furibondo, sbatte il pugno sul banco, grida non è vero e impone a Garibaldi di ritirare l'accusa. Caos, tutti urlano, tutti gridano, finalmente si fa silenzio, Garibaldi è ancora al podio, aspetta un attimo, finalmente c'è silenzio, Garibaldi riprende la parola. Stavate progettando una guerra fratricida. A questo punto il Parlamento esplode, si picchiano e così via. E questa è una delle poche volte che Garibaldi, deputato, è andato in Parlamento. Si fa tardi, chiudiamo. No, vi ringrazio. Finché non ci caccia, non ci buttano in mare. Ancora un pezzettino. Grazie. Raccontiamo ancora almeno una vicenda che merita di essere raccontata perché ci fa capire, come se non lo sapessimo già, che paese è l'Italia. Siamo nel 62, a Spromonte. Cosa vuol dire a Spromonte? Vuol dire che l'Italia è fatta ma manca Roma. E i patrioti, specialmente quelli più di sinistra, i repubblicani, gli anticlericali, sono convinti che senza Roma l'Italia non è completa. E sono anche convinti che ci vuole poco. Lo Stato Pontificio è fradicio, crolla. Basta rifare come si è fatto con la Sicilia e con Napoli, mandare dei volontari. E Garibaldi è pronto. Raduna dei volontari, va in Sicilia, ne rapprende altri, si arma. Tutto questo sotto lo sguardo un po' esterrefatto delle autorità militari, delle autorità di polizia che non sanno bene cosa fare. Anche perché, naturalmente, chi lo sa se il governo non è sotto sotto d'accordo? Magari il governo è d'accordo, quindi nessuno si prende l'autorità di arrestare Garibaldi, fermarlo e così via. Garibaldi sbarca in Spromonte e si prepara a risalire la penisola per andare a prendere Roma con i suoi volontari. Cavour è morto l'anno prima, purtroppo. E quindi il governo forse non ha più, come dire, le spalle abbastanza larghe. Si spaventa. Il re e Rattazzi, che governa in quel momento, per un po' stanno a vedere, è un copione che si ripete, poi si rendono conto che politicamente non se lo possono permettere. Perché non se lo possono permettere? Perché Roma è difesa dai francesi, perché l'imperatore Napoleone III, che governa la Francia, sostenuto dall'opinione di destra, conservatrice, cattolica, si è fatto protettore del papato, del regime temporale del papa, e la potenza francese non si può certo sfidare. Dopo qualche sondaggio, Vittorio Emanuele e Rattazzi capiscono che la Francia non permetterà all'Italia di prendere Roma. E allora a questo punto l'unica cosa da fare è fermare Garibaldi.